Continuano le operazioni di salvataggio delle persone coinvolte dalle sondazioni del fiume Crati nelle frazioni Turi e Ministalla dell'area urbana di Corigliano. Le acque del fiume infatti stanotte hanno invaso il territorio circostante invadendo abitazioni e ricoveri per animali. Tanti i capi di bestiame morti a causa dell'allagamento. I soccorsi della protezione civile comunale coordinata dal responsabile Luigi Forciniti in stretto contatto con il commissario prefettizio Domenico Bagnato hanno subito attivato le misure di sicurezza necessarie. Sul posto da stanotte ci sono squadre dei vigili del fuoco di Cosenza, Castrovillari e Rossano oltre a quelli fluviali di Crotone. Portate in salvo diverse famiglie con numerosi bambini mentre per altre 24 persone rifugiate sia ai piani superiori delle abitazioni si sta provvedendo il salvataggio in questi minuti. Ieri sera era in corso anche un funerale in una delle abitazioni coinvolte dall'esondazione ma per fortuna il feretro si trovava al piano superiore. L'acqua del fiume Crati ha invaso le case per circa un metro e mezzo e ricoperto letteralmente le automobili parcheggiate nei vari cortili. La circolazione sulla linea ferroviaria tra Sibari e Crotone è stata momentaneamente sospesa. Le operazioni di salvataggio andranno avanti fino alla completa messa in sicurezza di tutte le persone coinvolte. Grazie a tutti.